Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Wesa Channel. Sì, Wesa Channel anche per chi stesse ascoltando su podcast. Forse avrete notato che il podcast ha subito una piccola modifica nel nome, diventando Wesa Channel Podcast da Wesa Podcast che era, proprio per un discorso di unificazione del progetto e di semplificazione, diciamo così, della catena produttiva. Il podcast mi ha insegnato la cosa più importante, secondo me, cioè la precedenza del contenuto sull'immagine e la possibilità che si ha sia sui vari Spotify, Apple Podcast, eccetera, che in realtà anche su YouTube, di essere un pochino meno superficiali nella presentazione di ciò che si porta al tempo stesso. Creare contenuti differenti su piattaforme differenti è ovviamente insostenibile per chi non dispone di una redazione, di un team o qualcosa di simile, quindi si tratta di creare un contenuto e poi distribuirlo sulle piattaforme più adatte, quindi d'ora in poi si ritorna alla casa base YouTubica come punto di partenza, nel giro di 48 ore faccio uscire la versione podcast. Per chi segue solo su podcast non cambia niente, tutti i miei contenuti continueranno ad uscire su podcast e quindi sulle varie piattaforme, però nascono su e nasceranno su YouTube. Vado a fare, salvo le eccezioni di video in esterna o altri momenti, vado a fare una YouTube più alla morte bianca, oppure alla, e seguo elenco infinito di canali americani che fanno così, perché preferisco, mi trovo meglio, mi piace il fatto di poter fare sia abbraccio che scritto, sia mix come mi pare, e si può veramente mettere davanti quello che si dice. Ho notato una differenza molto importante proprio anche nella tipologia di commenti che i miei video suscitano. Se non ci metti faccia ed espressività, i commenti più superficiali e meno legati a quello che stai dicendo, ma non necessariamente legati alla tua immagine, comunque calano, proprio perché la tua immagine comunque suscita una tipologia di reazioni che non hanno niente a che vedere con quello che tu stai dicendo. Quindi questa è una cosa che già ho notato in questo poco tempo e che mi piace molto. Oggi vi voglio parlare, vi linko qua in descrizione, un articolo di Polygon su questa ragazza, questa streamer Twitch, questa Pokimane con milioni di follower. Ora, né io né voi, penso, abbiamo la più pallida idea di chi si tratti, ma non è un personaggio piccolo, in realtà da un punto di vista numerico. Lei fa streaming su Twitch ed è una ragazza molto carina e che quindi ha nella sua immagine qualcosa di preponderante a livello della propria presenza online e ha fatto questo esperimento. Ha deciso di applicare su di sé una, potremmo definire, una maschera, un avatar attraverso, direi se non ho capito male, un semplice motion capture e quindi adesso tu la vedi ed è l'immagine anime di se stessa, una piccola stilizzazione anime tridimensionale, ma dal mood 2D, come viene descritto in questo articolo, che in realtà è fatto bene. E quindi lei si è presentata in streaming con, che sembrava un cartone animato, che replica in qualche modo ancora abbastanza rozzo, devo dire, la sua espressività, ma comunque ha sottratto in qualche modo la propria immagine, pur continuando a presentare, la propria immagine reale, pur continuando a presentarsi così. E dice, qua in un estratto che Polygon riporta della sua live, dice, fare stream senza la camera, è così confortevole. Specialmente perché, non so, qualche volta diventa stancante avere le persone che commentano su di te, no? Preferisco avere la gente che commenta questo piccolo e carino disegno anime di me stessa, sai com'è. E trovo che, al di là del fatto che questa è una con milioni di follower, immaginatevi che genere di pressione possa subire sul proprio aspetto, che è stata ovviamente parte, immagino, molto importante del suo successo, ma che ovviamente è anche un macigno, può essere un macigno soprattutto per una ragazza da sostenere. Insomma, è una cosa molto interessante. Poi, a margine del nostro discorso, leggendo questo articolo, si scopre che questa comunità degli VTubers, di coloro che non si presentano con le loro fattezze, ma con degli avatar, in motion capture, è una comunità di un, come potremmo definirla, di un integralista conservatore da voltare lo stomaco. Si leggono commenti di una stupidità sul fatto che ora il movimento VTuber è finito, ora che il personaggio mainstream ha adottato anche lei questa soluzione, ah, è tutto finito, ha distrutto il movimento, è una cosa veramente, veramente, ma d'altra parte internet ci ha consentito una conoscenza della stupidità e dell'aberrazione di cui l'essere umano è capace, che insomma non possiamo più stupirci onestamente. Ma non è questo il discorso, il discorso è che mi interessa proprio vedere come una delle tante personalità che basano il proprio successo sull'estetica online, non solo ragazze, ovviamente, decide di tirare il fiato, dire, se ne ascoltate, vi metto questa immaginina qui, che fa le stesse espressioni che sto facendo io, poi in tempo reale, anche se poi c'è un delay e siamo ancora a livelli abbastanza rozzi, e così tiro un pochino fiato, in qualche modo mi posso un attimo rilassare. Leggevo nell'articolo, o forse era un altro perché ne ho letti diversi su questa questione, ma questo è il migliore, che lei una volta si era addirittura presentata in streaming senza trucco, suscitando incredibili reazioni, eccetera, insomma, avete capito che diventa un veicolo di successo, l'immagine può essere per qualcuno, può essere anche inevitabile mostrare la propria immagine, se sono un attore, un comico di qualche tipo, eccetera, vuoi farlo senza mai, impossibile, no? Quindi dipende anche da che cosa porti, ma naturalmente online c'è questa coltre di rumore, di reazioni, mediante commenti, chat, eccetera, eccetera, che può essere anche molto pesante. E quindi un'arma, la classica, no? Immagine stereotipica dell'arma a doppio taglio. Tutto questo per dire che, vedete, avete visto un nuovo nome per il podcast, avete visto, dimenticavo quasi di dirlo, un nuovo logo, ho messo questa W scritta a mano, in realtà l'ho scritta col dito, scaricando Procreate sull'iPhone e col ditino ho fatto questa W, ora io non sono un grafico, però in realtà mi soddisfa, quindi va bene così, e l'ho applicata intanto qui su Wesa Channel YouTube e Podcast, poi vedrò se metterla anche altrove, un logo proprio che rappresenta, insomma, se vogliamo fare l'introduzione da sommelier, rappresenta la firma, no? Quindi qualcosa di personale, il punto di vista, poi volendo può anche sembrare un occhiale stilizzato, quindi ancora di più il punto di vista personale. Insomma, al di là di tutto, rappresenta anche il mio desiderio di non avere la mia faccia come logo, che a un certo punto ho avuto come un'epifania, e mi sono reso conto di quanto demenziale fosse questa idea, soprattutto se preferisco mettere il contenuto davanti, così le persone guardano quello. A questo proposito mi viene, e scusate un'altra cosa, noterete anche, credo già da oggi su YouTube, una nuova grafica per le thumbnail, e che ci stava anche quella. A questo proposito mi viene in mente il video che feci sui commenti, sulla decisione di togliere i commenti, un video che da un punto di vista raccomentativo non fa una piega, ma poi la realtà ha mostrato le sue vere obiezioni, nel senso che l'impossibilità di gestire una sezione commenti producendo tanto, lì la mia idea era andare quasi verso il video al giorno, era infattibile, totalmente infattibile, e lì spiegavo tutti i motivi, alla fine non sono andato in quella direzione di frequenza della produzione, quindi è venuto un po' a mancare il motivo, quindi le ho rimessi, ma poi c'è anche il fatto che comunque ciclicamente arrivano i Cry Babies, che ti dicono perché non ci sono, perché non ci sono, sarebbe stata una cosa che non sarebbe mai finita, e quindi in realtà la rottura di balle rientrava dalla finestra, quindi sti cazzi. Alla fine purtroppo anche il discorso di questa ragazza, in generale chiunque si metta a produrre contenuti online, deve avere a che fare con tantissimo rumore, indipendentemente poi anche dalla tipologia di questo rumore, è rumore nel senso che ti distrae dal punto, ti toglie dall'essenzialità, dal segnale del quale tu ti vorresti curare, e quindi è una incredibile distrazione. A questo proposito bisogna conviverci con questa distrazione, quindi alla fine la soluzione del discorso commenti, indipendentemente dal fatto che poi non vado verso quella produzione quasi giornaliera che avevo in mente, quindi non è più una cosa ingestibile, ma in ogni caso si tratta di fregarsene, detta proprio in francese, bisogna accettare anche condizioni non ideali, ne abbiamo anche già parlato, e pace, non c'è altro. Detto questo mi viene in mente un vecchio saggio che se non erro risale alla fine degli anni 70 e stava nel libro La periferia dell'impero, dalla periferia dell'impero si chiama, di Umberto Eco, saggio memorabile, tra i tanti saggi memorabili di quella bellissima raccolta che vi straconsiglio, anzi ve la linko in descrizione qui su YouTube, dalla periferia dell'impero c'era questo saggio che si chiamava Il pensiero lombare, divertentissimo e comicissimo saggio del nostro, in cui parlava di un periodo a fine anni 70 in cui era sorprendentemente dimagrito, quindi immaginatevi Eco che perde qualche chilo e quindi approfittando del fatto di essere incredibilmente dimagrito, Eco aveva indossato, si era messo a indossare i blue jeans, e ovviamente è un filosofo che indossa i blue jeans e quindi questa cosa gli susciterà pensieri molto molto interessanti, ogni tanto mi viene da riflettere su quanta fortuna abbiamo avuto che Eco abbia avuto questo spirito di condividere così tanto quello che ha pensato, c'è una tale quantità di ciccia dentro a quei libri, comunque, e quindi il pensiero lombare, cosa succede? Eco si mette i jeans perché è un pochino dimagrito, durerà poco, ovviamente la cosa tornerà ad essere il panzone che tutti conosciamo, ma insomma conoscevamo, povero, ma cosa succede in questo periodo magro con i blue jeans, che comunque sono aderenti, e lui non è abituato, succede che lui si accorge di pensare ai blue jeans, cioè racconta, adesso non ricordo la lettera, racconta che cammina per la strada e il blue jeans è stretto, e quindi lui ci pensa, e il vestito, la mise, quindi l'immagine che ha deciso di adottare, convoglia il suo pensiero su di essa, su di esso, distraendolo, portandolo a pensare a ciò che indossa, e all'immagine in qualche modo che proietta in questo senso, e quindi, in qualche modo anche un vestito stretto, e adesso al di là del blue jeans di Eco, pensate a quanto, no, com'è che si diceva, c'era quel detto, come adesso, non me lo ricordo, se è bella vuoi apparire, un pochino devi soffrire, ma come adesso l'ho detto male, insomma, pensate a quanto l'immagine che si proietta è qualcosa che ci stringe, nel senso che ci costringe, nel senso che ci porta a doverci piegare ad essa, e quindi ci, in qualche modo, direziona verso di lei, si può dire, se i nostri scopi sono altri, che ci distrae verso di lei, e questo non vale soltanto per i blue jeans di Umberto Eco, ma vale, pensatela, quindi oggi, in epoca internettiana, vale per la proiezione dell'immagine che si fa di sé, che rischia di essere una sirena, alla quale cediamo volentieri, perché può essere, pensate, nel caso di persone particolarmente avvenenti, può essere una scorciatoia incredibile, assolutamente non sostituibile d'altro, per chi non è in grado di produrre altro genere di contenuti, verso un successo, una visibilità, incredibile, inaspettati, e quindi si lavora in quella direzione, e non è soltanto l'immagine curata, non è soltanto la ragazza molto bella o il ragazzo molto bello, in generale l'immagine è qualcosa, in questo senso, è qualcosa che richiede una grandissima cura, una grandissima attenzione, e ci sono persone che la stracurano, pur non rientrando nello stereotipo del bellone o della bellona, anzi internet ci ha insegnato che ci sono immagini di tutti i tipi, che possono diventare di grandissimo successo, e per chi la proietta, il pensiero lombare di cui parlava Eco si presenta sotto forma di tutti quei feedback superficiali che necessariamente veicoli, e quindi tu hai persone anche molto chatte online, da un punto di vista dell'immagine, che in realtà sono curatissime nel loro essere chatte, estremamente attente, ma finisci per esserlo, in questa sorta di circolo vizioso, nel quale sei costantemente portato ad essere attento al blue jeans, stretto, che ti dice, pensami, in qualche modo, ma davvero vi consiglio di recuperare quei saggi, c'è anche il bellissimo saggio sui puffi, e sul puffare, come mai capiamo che cosa dicono i puffi quando dicono puffare, ragazzi, ci sono delle perle nella produzione dell'Umberto, ma credo di avervelo già sottolineato. In ogni caso, il discorso di pochi mane, insomma, indipendentemente dal fatto che non ho idea di chi sia, mi è risultato interessante, mi fa piacere cambiare un pochino, il branding, mamma mia, della mia presenza online, poi adesso vedrò questo logo, dove lo voglio andare ad applicare, ovviamente Twitch, ad esempio, è una piattaforma che ci sta il faccione su Twitch, nel senso che quello è, quindi per ora è legato ai contenuti principali, che saranno, nasceranno su YouTube, e andranno, di conseguenza, su podcast, con un delay, pensavo, con le classiche 48 ore, visto che lo fanno in molti, questa cosa qui, ripeto, chi segue podcast, non noterà sostanzialmente la differenza, avrà tutto a disposizione, la casa base, podcastata, figlia della lezione del podcast, è questa, e mi riferisco a Weza Channel, mi riferisco a YouTube, e quindi, niente, un periodo, quest'anno, diciamo, anno scolastico allargato, settembre, settembre, 2019-2020, di grandissima sperimentazione, di grandissima, voglia di imparare, e di pensare strade nuove, è qualcosa che, mi porto, mi porto meco, ma al tempo stesso, è cosa che mi fa molto piacere, questo porta una grandissima, grandissima, semplificazione, per quanto mi riguarda, e quindi, direi che, semplicemente, ci vediamo stasera, attenzione, stasera, live extra alle 21, su Twitch, per seguire, lo showcase di PlayStation 5, ci saranno, spero, penso, tante informazioni, importanti e utili, che ci interessano, per vedere la risposta, di Sony, a Microsoft, e ovviamente, ci vediamo domani sera, con il nostro, universo, narrativo collettivo, che abbiamo chiamato, Ways Averse, domani è la serata, in cui, si votano, i vostri capitoli, quindi, preparatevi, a dare la vostra, valutazione in diretta, e decideremo quindi, quali saranno, i prossimi capitoli, canonici, del nostro, universo narrativo, grazie mille, per aver seguito, ci vediamo, in futuro, con video e podcast, correlati, alla fine, quanto ho cercato, di dibattermi, e di rifiutare, il fatto che il podcast, fosse l'audio dei video, il podcast, saranno gli audio dei video, l'importante, è provarle tutte, detto questo, non so quanto, ultima postilla, tanto per proseguire, il discorso di servizio, non so quanto, rimarrò fedele, alla, alla cadenza fissa, da un lato, la cadenza fissa, è una super figata, dall'altro, se i contenuti, nasceranno, comunque, da un punto di vista, youtube, comunque, quella che dovreste, ancora stare vedendo, la cassettina, che gira, se voglio fargli qui, almeno qualche immaginina, che si alterna, e che, illustra un pochino, quindi, non lo so, vediamo, 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 comunque, sono molto carico, vi dico la verità, è molto, molto importante, provare tante cose, e poi potare, è un, un ciclo che non finisce mai, si complica, e si semplifica, si complica, e si semplifica, ogni volta che si semplifica, si è andati avanti, rispetto alla semplificazione precedente, bene così ragazzuoli, grazie per aver seguito, ci vediamo al prossimo contenuto, grazie per aver guardato,